Il problema di Fiumicino in realtà è un problema molto più complesso che va oltre all'Italia. Guarda, io sono una di quelle che ha sempre apprezzato il lavoro del Ministro Lupi svolto nella fase in cui era in quel Ministero, motivo per cui sono anche arrabbiata con Renzi che lo ha fatto dimettere perché stava facendo bene, forse troppo bene quindi lo ha fatto dimettere. Detto questo, il problema Fiumicino è un problema che riguarda, spero di non sbagliare, però in proporzione, cioè all'Italia dentro i problemi di Fiumicino vale il 40%, 60% tutte quelle imprese che creano l'indotto all'interno di Fiumicino e voglio fare un esempio su tutti, oggi c'è il problema per esempio della MS, cioè una delle imprese migliori nel lavoro e nella riparazione dei motori dei nostri veicoli che ha deciso probabilmente di chiudere a Fiumicino mettendo fuori dall'ufficio, dal posto di lavoro più di 300 persone, quindi pensiamo che cosa vuol dire perché probabilmente se ne va a lavorare fuori Italia perché conviene andarsene a lavorare fuori Italia. Quindi è un'altra ma più grande. Esatto, e come la MS ci sono tante realtà aziendali dentro Fiumicino che ovviamente riguardano una migliaia di lavoratori che oggi si vedono comprimere nelle loro possibilità e opportunità e spesso e volentieri si vedono mandare a casa messi in casa integrazione con un sistema di ammortizzatori sociali, perché anche questo ci dobbiamo dire, che non regge più.